Ecco la mia colazione mia di partire Madonna ma non ti vergogni se andate dall'altra parte allora ho fricolato Eccoli qui pronti per il sireno bravi Ecco la partenza dallo chalet Eccoci qua ragazzuoli buongiorno Noi a vent'anni cji 9 6 11 11 12 13 14 14 15 fermati perché è quel dolore acuto che ragazzi quella è la neviera lo sapevo si chiama il peschio fraciculla cosa del genere mi sembra comunque la neviera guarda il gran sasso ma siamo arrivati si magari però ormai ti sto a dire che i ragazzi del bosco anche il cucchiazzo è talmente bello che non c'è i panorami c'è tutti non c'è l'ho da stamattina che c'è sto mi guardo con la coda dell'occhio non c'è l'ho non c'è l'ho non c'è l'ho non c'è l'ho Grazie a tutti 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 Grazie a tutti